I piccoli comuni, avere l'idea di realizzare, loro l'hanno nominata la via maestra, ma di dare la possibilità a tante piccole imprese di utilizzare quello che San Francesco ci ha detto, le mani, la testa. La via maestra per la promozione turistica del territorio è il titolo del convegno organizzato da Confartigianato Imprese, Ancona, Pesare e Urbino, nell'ambito della 54esima Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna. Il progetto rappresenta un nuovo stile di promozione turistica e di marketing territoriale partendo proprio dalle sue radici, i messieri della tradizione e i manufatti dell'artigianato artistico, promuovendoli insieme alla proposta culturale, artistica, paesaggistica ed enogastronomica espressa dalle marche. Una vetrina per le imprese eccellenti e per comunicare il valore dei loro prodotti e servizi. È un progetto appunto fatto per i prodotti dell'artigianato artistico, per i prodotti appunto di quegli artigiani che lavorano con le loro mani o che lavorano comunque in maniera tra virgolette non repicrabile. Quindi abbiamo voluto abbinare l'eccellenza delle produzioni artigianali a un prodotto dell'eccellenza della terra per veicolare un messaggio appunto di tutto un territorio che ha delle particolarità veramente ottime. Riteniamo particolarmente utile e importante poter offrire al mercato una vastità di prodotti nell'ottica di una qualità veramente selezionata e garantita di un prodotto artigianale veramente d'eccellenza. La Via Maestra si caratterizza anche attraverso un percorso tra storia e cultura che invita i cittadini e i turisti a visitare i centri storici, a riscoprire i borghi e tipicità locali. L'obiettivo della Via Maestra è valorizzare e non disperdere questo patrimonio delle eccellenze e quindi cercare di far comprendere ai giovani anche quanto sia bello essere imprenditori nel settore dell'artigianato artistico. Ma non solo l'artigianato artistico, quindi food e no gastronomia e quindi valorizzare anche le eccellenze del nostro territorio e le iniziative d'eccellenze. Tutto questo lo facciamo tramite questo brand, la Via Maestra, tramite un sito, tramite una pagina Facebook e tramite tutti gli strumenti digitali proprio per contribuire a far eccellere il brand market.